Gli ecosistemi della Terra sono sotto assedio. Esiste una continua crescita della popolazione umana e un utilizzo delle risorse che sta superando i limiti della sostenibilità. A seconda del tipo di risorse che andiamo a vedere, a partire dal mese di aprile, maggio, giugno, in alcuni casi poco oltre, abbiamo già esaurito tutto quello che il pianeta riesce a produrre annualmente. Esistono quindi problemi importanti per la sostenibilità del funzionamento degli ecosistemi ed esiste un problema che si sta aggravando nel tempo, non solo a causa degli impatti diretti dell'uomo, ma anche a causa dei cambiamenti climatici. Siamo quindi di fronte a una grande sfida, quella di rendere compatibile la crescita demografica con la sopravvivenza degli ecosistemi e questa sfida deve vedere coinvolti profili, esperti di tutte le discipline, incluse quelle ecologiche.